Eccolo l'olio che non ci ha fatto in un'ultima, tanto la mattana, tanto il palazzo dell'Alecone. Quanti fuggi, quanto fuoco, questi territori, sono un'area che si chiama prima, che devono prendere la comunità. E voglio finire un uomo adesso, saranno le più le campagne, la città e l'elettrina del rumo, ma le nostre delle rivoluzioni, la città e l'elettrina non poter funzionare, non poter trovare un territorio che si chiama il basso e poter utilizzare nella camorra, nella vera politica, nell'inferitoria malata, nel palazzo dell'Alecone. Questo è il fuoco di Ategra, questo è il fuoco di Scampia, questo è il fuoco di Casanovo, è il fuoco di Nora, è il fuoco di Tantamaria, di Bellona, è il fuoco di tutti i territori che stanno accendendo. Veo che il fuoco è la resistenza dei suoi territori, costruiremo ogni giorno, perché della politica si crede che a volte si alleano, allora anche i suoi politici, i politici, i politici, i politici, i politici, i politici, costruiranno alle altre impegni, in tutta la regione, oggi all'avmonte abbiamo avvisato, non vedremo a fare desidero, vada, dal questo territorio, venirete giudato. Lasciori, panmente, parlo! Paglierete il tutto, sto presiduto, nascerà il tutto, paglierete il caro, paglierete il tutto.